In questo periodo, come ho sempre detto, di montagne russe, prima di dare un nome, una notizia ben precisa, quando firmerà effettivamente, dirò qual è l'allenatore. Domani verrà presentato. Roberto Gemmi, direttore sportivo dell'Arezzo, non conferma ma nemmeno smentisce le indiscrezioni sul nome del nuovo allenatore Claudio Bellucci, ex giocatore di Serie A. L'ufficialità arriverà solamente venerdì, ma il nuovo allenatore, salvo colpi di scena, sarà proprio lui, emergente, 42enne, ex allenatore dell'Under 17 della Sampdoria. Certamente il profilo che noi e io abbiamo sempre cercato e ricercato per quest'anno era sempre di un emergente, era sempre di una persona che ha voglia di affermarsi, che aveva voglia soprattutto di poter stupire e di cogliere l'occasione di poter gestire o allenare una piazza importante e blasonata come l'Arezzo. Poi per le varie montagne russe, le dinamiche delle montagne russe, abbiamo contattato più profili di questo genere e poi alla fine si è scelto il profilo adeguato per le dinamiche che sono successe in questi giorni. Il direttore sportivo Amaranto con una conferenza stampa ha rotto così il silenzio dopo giorni faticosi e di scadenze. In questo periodo così difficile di montagne russe non ho mai parlato ma mi sembrava giusto che si dicesse la mia opinione, come ho detto e quello che penso. Per quanto riguarda oggi gli adempiamenti sono stati fatti con grandi sacrifici della società, del Presidente che ha esternato il fatto che è in difficoltà, che farà tutto il possibile come ha sempre fatto di cercare di mettere tutte le cose a posto, però ce ne sono altri, non è che non ce ne sono, ce ne sono altri e che il Presidente ha detto che in qualche modo riuscirà, come ha sempre fatto, a portare avanti. Roberto Gemmi adesso pensa al prossimo campionato, parola d'ordine, rimboccarsi le maniche e lavorare. Uno può essere ottimista, può essere sognatore però non si può distaccare dalla realtà. La realtà è una sola e io ci tengo a sottolinearla, la realtà è che oggi l'Arezzo è in difficoltà e nessuno può nascondere, parte ultima in classifica, quindi parlare di obiettivi e di asticelle mi sembra non rispettoso nei confronti dei tifosi della stampa. L'asticelle noi la mettiamo, come ho detto, nel cassetto e non se ne parla più. Tutti si devono rimboccare le maniche, lavorare il massimo possibile, parlare poco perché le parole poi fanno confusione e generalmente non servono a niente e dimostrare. Questa è la chiave di lettura di quest'anno.